Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video, bentornati sul mio canale, iscrivetevi al mio canale e oggi vi parlo delle profumazioni che possono essere inseriti nella categoria easy grab and go. Che significa? Sono le profumazioni che quando voi non sapete esattamente cosa mettervi, perché non sapete dove vi porta la vostra giornata, voi la incominciate a casa, poi andate al lavoro, poi forse incontrate qualche amica, poi forse andate a fare qualche aperitivo, poi forse andate a fare shopping, andate a fare la cena, qualsiasi roba, qualsiasi cosa. Queste sono le fragranze che secondo me si adattano benissimo alla vostra giornata, perché sono assolutamente neutre queste profumazioni. Io posso chiudere gli occhi, prendere qualsiasi profumo da questa scatola e andrà bene, per me andrà bene, non importa dove mi importa la mia giornata, non importa cosa indosso, non importa che tempo fa, non importano tante cose, ma queste sono le fragranze che andranno bene, andranno bene sempre e comunque. Come scegliere una profumazione così, che vada bene per tutto e per tutti e sempre? Ovviamente per ogni persona sono le fragranze diverse, ma eccovi un paio di dritte. Allora, se voi amate particolarmente qualche frutto, qualche pianta, qualche frutto, scegliete questa, perché se vi piace la profumazione, per me la profumazione è così, è un fico. Io amo i fico, io amo i fichi, amo frutto, amo questa nota un po' così latte di fico, un po' anche verde del fico, quindi il foglio di fico. Per me questo è il fico e per me la profumazione che anche basata su questo fico, che può darsi che qualcuno dice ma il fico la sera non va bene, soprattutto se si tratta di una sera in inverno, per me va bene, perché questa è la nota che mi piace tantissimo. Per voi questo può essere, non il fico, ma non so, la mela, il mango, qualsiasi roba, ma se la profumazione per sé, il frutto vi piace, vi andrà benissimo. In più, io starei lontana dalle profumazioni mono, quindi io ho una profumazione in mente di The Mercant di Venezia, pensavo se lo devo dire in inglese o in italiano, The Merchant of Venice, c'è una profumazione che si chiama bergamotto. Il bergamotto mi piace, ma secondo me non va bene per tutte le occasioni, quindi va bene per il giorno, purtroppo non andrà tanto bene per la sera, quindi voi dovete anche scegliere, e secondo me è meglio stare lontano dalle profumazioni che hanno solo una nota. In più, io starei lontana dalle profumazioni che non sono tanto ben bilanciate, oppure che hanno una nota che spicca, che spicca tanto. Per esempio, tante persone usano il Baccarat Rouge come le loro profumazioni easy grab, no? Loro non sanno cosa mettersi, prendono il Baccarat Rouge e se lo mettono addosso e via. Secondo me, per me, questo non è un profumo così semplice, non è un profumo da ogni giorno. Perché? Perché io devo essere sicura che questo profumo mi andrà bene dalla mattina alla sera, di conseguenza io potrei anche mangiare qualcosa durante questa giornata. E tante volte, non so, forse sono solo io così, tante volte, soprattutto se mangio il pesce e se addosso ho una profumazione abbastanza che spicca, abbastanza intensiva, ho le nausea, sto male. Quindi, devo assicurarmi che il profumo non va assolutamente in contrasto con il pesce che sto mangiando e questo è da anni e anni e anni, quindi da sempre così. Quindi, deve essere una profumazione che non invade, non contrasta quello che sto facendo, incluso anche quello che sto mangiando o sto bevendo. Quindi, qua ho le profumazioni per farvi vedere, incomincio dalla profumazione di Nikia e qua ho le profumazioni di Nikia, i profumi che costano un po' di meno, un po' di più, quindi c'è un po' di tutto. Ci sono i profumi un pochino più vecchi, un pochino più nuovi, quindi un mix interessante. Incomincio dal profumo che si chiama Melody of the Sun di Mancera. Qua c'è il profumo così e questo profumo ha limone, la pera, il tè verde, muschio, la lavanda, osmanto, il gelosomino, ci sono tante altre note. Questo profumo è molto buono, molto molto fresco e si apre con questa nota molto agrumata, spiccata e poi si calma e poi diventa un profumo più fiorito, molto verde, molto fresco, molto buono, molto piacevole. Ma essendo fresco non vuol dire che va bene il sole quando fa troppo caldo, non vuol dire che in inverno se fa freddo o addirittura se nevica non vi andrà bene questo profumo perché non vi riscalderà abbastanza. E' un profumo molto piacevole, un profumo anche pur essendo verde, agrumato, non caldissimo, secondo me è proprio perfetto. E' perfetto perché quasi etereo. A me piace tanto, tanto questa cosa. Un altro profumo è quello di cui vi stavo parlando, un profumo al fico, il fico che mi piace tantissimo. Io da tanto tempo cercavo un profumo perfetto, quel fico l'ho comprati tantissimi, l'ho provati ancora di più e mi sono fermata su questo qua. Questo è l'Artisan Parfumeur e questo è il fico, il fico estremo. Fico estremo significa che qua non è solo un fico, ma qua abbiamo il fico, qua abbiamo l'albero di fico, poi abbiamo anche il foglio di fico, poi abbiamo anche un po' di cocco, poi abbiamo... Cos'altro abbiamo? Aspettate un attimo. Abbiamo anche sandorle, mandorla e la frutta secca. Allora, questo è buonissimo, ma ripeto, per voi non è scritto da nessuna parte che per voi deve essere per forza fico. Se vi piace la celiegia, qua sarà, non so, latte di cherry, per esempio, come il profumo, qualsiasi cosa. Se vi piace il profumo, se vi piace il profumo di un frutto in particolare, questo profumo vi andrà bene sempre, sempre, perché vi piace proprio il profumo di questo prodotto. Quindi, per me è lui. Io lo posso usare anche di inverno, anche se indosso qualcosa di elegante o qualcosa di meno elegante, in estate, qualsiasi, qualsiasi occasione. In più, come ho già detto, io posso chiudere gli occhi e semplicemente prendere qualsiasi profumo di questa scatola e andrà bene. Perché queste sono le note che, tutto sommato, sono ben selezionati per i miei gusti. Vi aiuto di capire cosa potrebbe andare per voi. Allora, questo è un profumo che io non riesco a capire come mai sono così tante persone che lo odiano. Odiano questo profumo, odiano come è fatto, odiano il packaging, odiano il profumo dentro. Io non so. Secondo me è un profumo ben fatto. È un profumo buonissimo, un profumo allegro, un profumo che non ha niente che non va. Questo qua è Versace Bright Crystal. Abbiamo qua la nota di Yuzu, la nota di Ghiaccio. Allora, Ghiaccio. Ovviamente Ghiaccio non ha l'odore, però voi, quando sentite questo profumo, sentite anche una specie di freschezza. Quindi la freschezza c'è in questo profumo. C'è anche il melograno, c'è anche un pochino di muschio, c'è l'epione, l'otto, magnolia, c'è ambra. Ma non si sente tanto ambra, non si sente tanto il muschio, quindi non è un profumo assolutamente molto pesante. È un profumo fiorito, un profumo più fiorito che altro. Ma i fiori molto leggeri, molto buoni, crea proprio aura attorno a voi. È un profumo adorabile. Adorabile che, nonostante sia adorabile, comunque va bene per qualsiasi momento perché si adatta a quello che fate voi. Se deve essere un pochino più seducente di sera, lo è. Se deve essere più casual, lo è. Quindi è un profumo perfetto, secondo me. Allora, un altro profumo è un profumo che... Aspetta un attimo che forse sì. Ho dimenticato di parlarvi di un altro profumo che questo rientra nella categoria low cost. È un profumo che quando l'ho ordinato ho detto, cosa sarà mai? Buonissimo. È buonissimo. Questo è il tacchini e questo è il profumo che si chiama I love Italy. È un profumo adorabile. L'unica roba che non è adorabile di questo profumo è la boccetta perché è abbastanza grande, è abbastanza pesante. Quindi portarselo dietro è un pochino difficoltoso. Qua abbiamo lampone, neroli, mandarino di Sicilia, limone, la rosa, magnolia, vaniglia, ambra, patchouli, muschio, cedro. Ho detto tante, tante cose, tantissime cose, ma è tutto molto sottile, tutto molto piacevole, tutto molto ben fatto, ben ammalegamato tra di loro. Tutte le note che sono ben bilanciate. A me piace tantissimo questo profumo. Insieme con questo profumo io avevo anche il gel doccia e la crema corpo, entrambi finiti perché sono buoni. Allora, questo è un profumo che è veramente grab and go. Spruzzi, 5, 6, 8 spruzzi e la scia ti accompagna tutto il giorno. È buonissimo. Sì, costa poco, ma non vuol dire niente perché secondo me è un profumo molto buono. Si sente lampone, si sentono queste note aggrumate, si sentono queste note fiorite. Secondo me, guardate, questo profumo non ha niente che vedere con i profumi super cheap, con i profumi sintetici. Questo è un profumo fatto benissimo. Un altro profumo di cui vi volevo parlare è un profumo di Nancôme. È un profumo Idol. Sì, il primo. Allora, quando ho fatto la recensione di questo profumo, quando ho ancora appena arrivata la profumazione sul mercato, ho detto questo è un profumo abbastanza banale. Non ha niente che spicca. Ed è così. Ed è tuttora così. Per me è tuttora così. Ma banale, sì, d'accordo, banale forse ha una nota di negatività dentro. Però per me no. Per me è una cosa che è abbastanza neutra anche. È un profumo che è benissimo bilanciato benissimo. Molto buono. Molto interessante. Ma molto calmo. Qua abbiamo la pera, il pergamotto, il pepe rosa, la rosa, abbiamo il gilsamino, abbiamo muschio, vaniglia, paciuli, cedro. Ma non c'è tanto cedro, non c'è tanto muschio. È tutto insieme. È tutto un calderone molto molto grande dentro. Tutte queste note ben amalgamate. È un profumo che vi accompagna benissimo durante la giornata. Un profumo che le persone vi diranno che buon profumo che indossi. Ma secondo me difficilmente chiederanno ma che profumo è? C'è una differenza tra dire che buon profumo e chiedere poi ma che profumo è? Perché non è niente di particolare. È solo molto piacevole. Molto piacevole e molto flessibile perché si adatta a ogni evenienza vostra. Dovunque andiate questo profumo vi accompagnerà. È un buon profumo. Abbastanza normale, banale, ma è buono. È veramente, veramente buono. Io ho provato anche tutte le altre profumazioni di questo Idol di Lancome. Tutte le altre flanker. Adesso sta uscendo un altro. Non l'ho ancora provato. Ma secondo me il primo è quello che mi è piaciuto di più. Così. Un altro profumo è un profumo che io lo conosco da anni e anni. E sì, devo ammettere che nel corso degli anni questo profumo gli è cambiato. È cambiato. Sono cambiate un pochino anche le sue prestazioni. Secondo me è cambiato anche l'inizio di questo profumo. Non è più così pungente come prima. Ma comunque questa non è la mia prima bocetta. La compro e li compro. E finché lo producono lo comprerò sempre. Light Blue di Dolce & Gabbana per me è veramente un easy reach. Un profumo che io l'amo così tanto che quando sento questo profumo non mi porta necessariamente in Sicilia al mare. Ma proprio mi crea questa atmosfera di benessere. Mi crea un'atmosfera che va bene tutto, tutto va bene, tutto calma, tutto bene, tutto sotto controllo, andrà tutto bene. È tipo un calmante per me. Allora qua abbiamo il limone di Sicilia, la mela, cedro, abbiamo bambù, gelsomino, la rosa bianca, cedro, muschio e ambra. Quindi questo è un profumo interessante. Interessante perché? Perché nonostante il fatto che si apre con questa botta di limone, con questa botta di freschezza. Comunque è un profumo che secondo me va bene per qualsiasi momento perché non è solo limone ma c'è anche un po' di muschio, c'è un po' di questo action un pochino fiorito. È buono. Poi sì, uno può dire che è un profumo che portano tutti, che sanno tutti, ma cosa ci importa? Non ci importa niente. Se ci piace il profumo noi lo dobbiamo portare assolutamente. E questo è uno di quei classici che non muoiono mai questi profumi. Che anche se tutte le altre persone lo portano, se a voi piace questo profumo portatelo. Portatelo perché è buonissimo. È buonissimo, è un evergreen. Si è cambiato durante il corso dei giorni, però è così. È comunque anche ancora stupendo. Un altro profumo. Un altro profumo è un profumo Chanel Chance O'Vivre. Questa forse è la versione un pochino meno conosciuta perché è più leggera. Qua abbiamo una botta di agrumi all'inizio. Qua abbiamo arancia, agrumi, abbiamo anche gelsomino, il muschio bianco. Sto traducendo per questo sono un pochino lenta, scusatemi. Abbiamo cedro, abbiamo iris. Quindi si apre con questa botta di agrumi, con questa botta molto allegra di agrumi. Questi agrumi rimangono con noi. Rimangono durante tutta la durata di questo profumo. In più c'è questa nota di iris. Che ogni tanto, iris, devo ammettere, rende il profumo un pochino melancolico. Ma non in questo caso. In questo caso lo rende un pochino più cipriato. Poi abbiamo anche il muschio. Quindi abbiamo questo profumo muschiato, agrumato. Buonissimo. Buonissimo perché secondo me va benissimo per qualsiasi giorno, per qualsiasi momento del giorno. È veramente un profumo stupendo. Finisco questo mio racconto con un altro profumo che io ho provato tutti i profumi di questa linea. E questo è il mio preferito. Non ci posso fare niente. Il profumo è assolutamente banale. Lo devo ammettere. Tante persone che mi scrivono Ah sì, ho provato quel profumo, ma non niente di che. Ma è veramente non niente di che. Però c'è qualcosa dentro che mi fa impazzire perché è un profumo talmente bello. Talmente semplice, ma talmente bello nella sua semplicità che, non so, a me piace, piace, piace. Questo è il Valentino Born in Roma e questa è la versione Yellow Dream. È quella gialla. Quindi qua noi abbiamo le note di limone, poi abbiamo la nota di rosa e poi abbiamo anche la nota di muschio. È un po' così una rosa muschiata, aggrumata, molto, molto leggero. È tutto molto leggero. È tutto molto sotto tono. Non è un profumo che spicca, non è un profumo che grida. È un profumo che io vi accompagno. È un profumo che vi rende felici. Un profumo che vi proprio vi incornicia un pochino. Cioè non vi fa... Non corre davanti a voi. Non grida. È un profumo che vi accompagna. Ripeto, mi sto ripetendo. Buonissimo. Buonissimo. Molto, molto femminile. Molto sensuale. Interessante. Semplice. Semplice. Ma come tante cose semplici è un profumo di un gran impatto. In più, questi profumi sono molto facili da portare. Non devi essere... Non devi... Perché certi profumi... E credetemi, quando sono stata all'Exans e ho provato tantissimi profumi, mi sono resa conto che certi profumi... E devi soffrire quando li porti questi con questi. Non soffri assolutamente. Anzi, ti piace. Ti piace portarli. Ecco, questo era il mio video. Spero tanto che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi avete questo tipo di profumi. Anche profumi che poi... Che potete contare su questo profumo. In ogni occasione. Vi auguro una buona giornata. Una buona domenica. Grazie della vostra attenzione. E... Ciao!